Questo epigramma di Marziale, l'epigramma 44 del libro undicesimo, mette in guardia un suo anziano conoscente dalle amicizie interessate. Questo suo amico è non solo vecchio ma anche molto ricco, per cui Marziale gli dedica questo epigramma. Orbus eset locuples et brutto consulenatus, esseti biveras credis amicizias, sunt vere sed quassi juvenis quass paupera bebas, quino vus est mortem diligit ille tuam. Che significa? Sei senza figli, è ricco, è nato sotto il consolato di Brutto, quindi vecchissimo. Brutto è stato il primo console della Repubblica Romana. Credi di avere delle amicizie vere? Sono vere ma quelle che avevi da giovane e da povero. Quello che ti è nuovo amico aspetta solo la tua morte. Ovviamente per ereditare qualcosa.